io ecco ecco di solito si parte dal commento del match no e sicuramente lo faremo non c'è problema non vi lubbo tanto tempo perché domenica avete le vostre cose da fare ma io partirò il mio video non parlando della partita ma parlando dello stadio uno stadio assolutamente clamoroso una cornice di pubblico impagabile impagabile io naturalmente ho seguito la partita dalla televisione ho seguito la partita da dason però c'erano delle inquadrature quando inquadravano le panchine quando inquadravano a bordo campo sembrava di essere dentro dentro alla tribuna c'era questo tifo c'era questo batti mani e simultaneo che era una cosa proprio di spettacolare di spettacolare ragazzi questa è una salernitana dei miracoli questa è una salernitana che è la sublimazione che è il capolavoro da parte di sabatini che è il capolavoro da parte di davide nicola sì riccardo guarda c'è stato un tifo che è un qualcosa un qualcosa di straordinario un qualcosa di impagabile io non voglio svilire quello che si è visto in campo ne parleremo a breve perché è stata comunque una bellissima partita mamma mia però sugli spalti c'è stato un qualcosa di di coinvolgente un qualcosa di assolutamente unico un popolo che ci crede ragazzi ciao daniele si guarda veramente un godimento assoluto un pubblico impagabile ciao l'iran sto facendo questo breve video sia perché voglio parlare di questa meravigliosa partita che ho visto sia perché sono rimasto inebriato veramente da da questi tifosi della salernitana veramente un tifo incredibile un battimano simultaneo un qualcosa di unico un'atmosfera da brividi per me che ho visto la partita da casa figuriamoci per chi era lì figuriamoci per chi ha vissuto in tempo reale queste emozioni assolutamente incredibili ripeto io ora parlo della partita perché oltretutto la salernitana oggi non è che ha vinto contro una squadretta ha vinto contro una squadra che se finisse oggi il campionato sarebbe in europa league e mi voglio anche sbilanciare la fiorentina per me alla fine ci arriverà in europa league perché la fiorentina gioca divinamente ha un allenatore bravissimo ma oggi in prima pagina ci devono andare walter sabatini davide nicola e la nuova proprietà della salernitana hanno ereditato una squadra che sembrava oggettivamente spacciata in fondo alla classifica e ora e ora stanno alimentando il sogno stanno alimentando l'aspettativa di un popolo straordinario di una tifoseria che finalmente si è liberata dalla tirannia dalla prigionia di claudio lotito finalmente la salernitana ciao giovanni hai ragione a godere e tu ci sta tutto finalmente la salernitana il popolo della salernitana si sono liberati dalla tirannia di claudio lotito la società è semplicemente rinata è semplicemente rinata la salernitana sono settimane che gioca così bene nel calcio non sempre raccogli già contro la roma devo dire che la salernitana aveva disputato un'ottima partita alla fine la roma aveva vinto con delle individualità chiaramente dei suoi giocatori di classe ma già in quella circostanza la salernitana mi aveva fatto una grande impressione una grande impressione quello che sta facendo nicola è molto simile al miracolo che portò avanti col crotone ragazzi non tutti di voi se lo ricordano ma davide nicola in quel caso prese un crotone che sembrava oggettivamente morto e oggettivamente spacciato riuscì a salvarlo e come fioretto fece il giro della penisola italiana in bicicletta quindi questo nicola lo definirei veramente un artista di periferia se vogliamo questo nicola riesce a prendere queste squadre apparentemente morte e le riesce a rianimare diciamo che nicola da un certo punto di vista potremmo definirlo un cardio chirurgo perché riesce veramente nelle imprese quanto riguarda stasera naturalmente se il milan vuole avere velleità di scudetto dovrà vincere per forza contro la lazio perché se il milan non vince questa sera le speranze residue di scudetto da parte del milan possiamo dire che finiscono qui e visto e considerato che il milan comunque vuole ancora sperare vuole ancora continuare a sperare io credo che questa sera il milan abbia tutte le carte in regola per andare a vincere la partita poi per carità ragazzi nel calcio può succedere di tutto ma se gioca ibraimovic come hanno detto devo dire che il milan secondo me ce la può fare e per quanto riguarda nicola vedo paragoni coragneri con mazzone sono tutti paragoni giustissimi ci sono questi allenatori che potremmo definire artisti di periferia ragazzi perché salvare quel crotone lì e salvare questa salernitana che partiva da questa situazione ad handicap dove con castori con colantuono la squadra aveva praticamente sempre perso per me significherebbe come vincere degli scudetti si mettono in risalto solamente che gli allenatori che vincono gli scudetti ma a voi vi sembra facile salvare squadre come crotone salernitana ma non tanto per le squadre in sé che sono due piazze straordinarie ma quando partivano da quelle situazioni così ad handicap per salvarle c'è sinceramente da essere artisti del calcio questa era la partita ragazzi per chi voleva sognare no perché anche la fiorentina sta facendo una stagione da sogno dove sogna e ritorna in europa e ve lo dico per me la classifica merita cioè per me se c'è un merito nel calcio in europa league dovrebbero arrivarci roma e fiorentina in conference league dovrebbe arrivarci l'atalanta ma il futuro dell'atalanta e è comunque sia legato alla salernitana stessa perché comunque nel prossimo turno di campionato ci sarà salernitana atalanta di conseguenza la salernitana potrà sfruttare la stanchezza dell'atalanta perché non tutti sanno che comunque sia l'atalanta adesso col fatto del recupero sta giocando molte partite di conseguenza è un po soggetta ad un tour de force intanto saluto volentieri il mio abbonato antonio fiorezio toni ti ridò di nuovo un grande bacio quindi questa era la partita per chi voleva sognare questa fiorentina che dopo anni grigi in cui ha rischiato ogni anno di retrocedere sta sognando l'europa sta sognando sta sognando l'europa con un calcio con un gioco meraviglioso e nonostante la vendita di vlawich è chiaro che cabral e pionte che non rappresentano attaccanti del medesimo valore ma grazie al gioco di italiano comunque sia la fiorentina sta riuscendo comunque ad alimentare questo sogno e ripeto per me sarebbe meritata la sua qualificazione nelle coppe europee ma oggi non c'è paragone non c'è questione oggi la salernitana avrebbe meritato anche un passivo superiore perché comunque al party goal di diuric e di bonazzoli la rete annullata boinen è una cosa sì per carità da regolamento ci sta annullare questo gol ma va a sottolineare come effettivamente la salernitana abbia avuto un dominio territoriale ragazzi d'altronde ripeto guidato da questo palcoscenico straordinario la salernitana ha messo insieme tre vittorie in serie a che non c'era mai riuscita nella sua storia quindi anche questo è un piccolo è un piccolo miracolo anche questa è una piccola impresa che va rimarcata perché d'altronde mettere in fila tre vittorie con sandoria udinese e comunque anche la partita di oggi è sinceramente tanta roba ora chiaramente la salernitana deve sperare che magari tra genova e cagliari forse deve addirittura sperare che vinca il genova in maniera tale che il cagliari si fermi che ormai il cagliari è diventato il suo punto di riferimento di conseguenza la realtà è che la salernitana e sembrava veramente impossibile perché nove punti fa se non ci fossero stati queste tre vittorie consecutive la squadra sembrava semplicemente spacciata ma ripeto oggi ha meritato di vincere con prestazioni incredibili di Ruggeri che partita ha fatto ragazzi c'è Ragneri tutta la squadra di Urice e Borazzoli che sono andati in gol il comandante Fazio in difesa Sepe che ha dato sicurezza tra i pali e lo stesso Boinen che aveva segnato un gol poi annullato che ha fatto un assist cioè la salernitana veramente ha giocato una partita di una qualità cosmica invece nella partita della Fiorentina a parte nel finale che Pionte che non ha messo la zampata c'è solamente per carità il guizzo di Saponara più che altro propiziato da una grande giocata giocata di Odrio Zola quindi vi devo dire la verità volevo semplicemente fare questo video per elogiare e rimarcare quella che comunque ad oggi potrebbe rappresentare un'impresa sportiva clamorosa che è la salvezza della salernitana grande merito di Sabatini grande merito di Nicola grande merito della nuova proprietà che ha liberato la tifoseria granata dalla dittatura lotitiana però per il resto che dire ripeto nella vita ci vuole anche equilibrio quindi vanno benissimo questi complimenti e elogi per la salernitana ma non va dimenticato tutto quello che sta facendo la Fiorentina che anche questo è un piccolo miracolino dopo anni di grigio in cui la Fiorentina ha sempre rischiato di retrocedere va bene ragazzi ci aggiorniamo ora continuiamo a gustarci il programma di serie a ripeto prevedo una vittoria del Milan ma comunque è sempre una partita da tripla perché il Milan sta vivendo un periodo piuttosto negativo comunque il mio pronostico per fine anno è certamente Roma e Fiorentina in Europa League spero salernitana salva il posto della conference per me è un po un ballottaggio tra Lazio e Atalanta vedremo in settimana l'Atalanta cosa fa in base a quel risultato sicuramente avremo le idee più chiare per quanto riguarda il posizionamento in conference league vi ringrazio per l'ascolto e ci aggiorniamo votate il sondaggio nella community un abbraccio a tutti mettete like e naturalmente attivate la campanella delle notifiche e non dimenticate di abbonarvi o di iscrivervi al canale alla prossima grazie a tutti grazie a tutti